Allora, stiamo qui a parlare ancora della partita che la Juventus ha disputato contro il Cagliari perché sta avendo un certo peso, una certa valenza come gara. Prima di tornare un po' sui temi di questa sfida, vi faccio vedere un po' solito di backstage, diciamo così, di pre-partita, insomma, quelle cose che conoscete già, magari c'è anche qualcosina di nuovo, vediamo, insomma, vediamo assieme. Con Quadrado e Ciccio non ne sarà contento, a destra, Alessandro a sinistra, con Bonucci e De Miral che dovrebbe essere ancora preferito su De Ligt, con Rabiot che vince il ballontaglio con Medadeschi per affiancare Pianici Maggiudì e diciamo Ramsey a fare da supporto. Grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Numero 19 Leonardo Numero 25 Adrian Numero 38 Rientrati in la deformazione professionale, mi faremo dire in studio, anche se in studio ci sto poco perché sono sempre fuori come avete visto e come ben sapete. Torniamo sui temi di questa partita perché molti di voi, alcuni di voi, hanno contestato il fatto che l'abbia definita una partita strana, ma nel mio intenderla strana dipendeva dal fatto che mentre nel primo tempo la Juventus non ha mai tirato in porta, se non in due occasioni, la prima con un tiro debole di Ramsey e la seconda con il colpo di testa di De Miral. Nel secondo tempo si sono viste più conclusioni e anche una percentuale realizzativa molto alta, direi, perché diciamo che le occasioni fallite, di occasioni fallite me ne ricordo una principalmente ma già sul 4-0 da Gonzalo Higuain. Quindi direi che questa volta la Juventus ha capitalizzato molto rispetto a quanto si è procurata a livello di occasioni. Nel primo tempo invece pochissime. Il trade union tra i due tempi è stato questo possesso palla, che è stato piuttosto alto, quantificabile circa nel 65% secondo i dati ufficiali, che forse anche rispecchia un po' la media di certe gare disputate da Juve. La punta massima è stata con Locomotive di Mosca. Nella gara di andata di Champions, quella vinta 2-1, lì si toccò il 78% di possesso palla, il nuovo record della Champions League, però attenzione. Possesso palla non vuol dire aritmeticamente garanzia di vittoria netta. Se vi ricordate bene, quella sera, 78% di possesso palla, ma fino al 77% la Juventus stava perdendo molto pericolosamente. Se la Juventus avesse perso quella partita, la partita di ritorno sarebbe stata una sorta di finale per andare agli ottavi. Capite? Quindi il possesso palla va bene, è importante, è funzionale quando poi ne concretizzi gran parte. E la pecca un po' della Juventus di quest'anno è stata questa, di aver magari creato diverse occasioni, frutto anche di tanto possesso palla, ma di non aver capitalizzato un numero adeguato di occasioni per potersi garantire un finale tranquillo. Ieri la Juventus non ha regalato ai tifosi, forse per la terza volta quest'anno, se non vado errato, un finale col brivido. Era successo col Berle Verkusen in Champions all'andata, è successo con la Spal 2-0, è successo con l'Udinese 3-1 col gol di Pussetto all'ultimo. Ieri Joao Pedro stava per segnare il 4-1 proprio all'ultimo secondo, ha colpito il palo con la traversa, se non ricordo bene, perché stavo registrando il video tra l'altro, quindi l'ho visto un po' di sfuggita. E va bene, però quantomeno, insomma, né con l'Udinese né con il Cagliari, la Juventus ha regalato patema d'animo nei minuti finali ai propri tifosi. Quindi, ecco perché è importante la sfida di ieri, perché si sono visti diverse, sono stati messi in luce diversi aspetti che magari si volevano vedere subito all'inizio della stagione, ma che era difficile poter ottenere e pretendere con un cambio così epocale di filosofia calcistica dall'inizio della stagione. Ossia, compattezza di gruppo, movimenti ordinati, è una cosa che mi ha colpito, perché, vedi, Sari ha dato un paio di spiegazioni niente male, molto semplici. Questo ha conferma del fatto che molto spesso si fanno dei voli pindarici per spiegare determinate situazioni e poi in realtà la traduzione sul piano esplicativo del gioco del calcio è molto semplice. E' molto semplice. Perché la Juventus ha funzionato ieri? Ha dato rapidità al suo possesso palla, quindi ha evidenziato una buona condizione fisica, ma soprattutto, ha detto Sari, la squadra era ordinata. Cosa vuol dire ordinata? Intanto che ha messo in pratica quello che era stato provato in settimana, potendo lavorare una settimana intera, senza il turno in presa settimanale. E poi perché? Ogni giocatore ha rispettato la propria posizione. Se ogni giocatore rispetta armonicamente la propria posizione, è chiaro che c'è minore dispendio di energia da parte di tutti, perché ti scappa il pallone in una zona, c'è un giocatore pronto ad intercettarlo in un'altra. Se la squadra in realtà invece si allunga, come abbiamo visto in certe circostanze, è chiaro che diventa più difficile recuperare palloni, diventa più difficile arginare inserimenti degli avversari, no? E quindi si spendono ancora maggiori energie, arrivi alla fine che sei anche un po' in debito di ossigeno e puoi mettere in pericolo il risultato che hai acquisito. Quindi è molto semplice da spiegare. Ti muovi in maniera ordinata, perché stai anche bene fisicamente, copri bene il campo in ogni zona, in cui puoi andare il pallone, in cui puoi scapparti via l'avversario, ed ecco che l'immagine che dai è quella di una squadra che impedisce sostanzialmente all'altra di esprimersi, perché il Cagliari aveva sempre segnato in trasferta, aveva perso una sola volta in trasferta e contro la Juve non è riuscito, se non nei minuti finali, perché quel tipo di gioco richiesto da Sarri non può essere sostenuto per 100 minuti, ecco quindi se non nei minuti finali il Cagliari non è mai riuscito a creare un pericolo, a creare un patema d'animo a Cesni e allo stadio che gli stava attorno. Ma perché? Perché la Juventus ha attaccato, ha fatto filtro e ha difeso in maniera ordinata. Ecco, il passo in avanti, fisicamente, tecnicamente, perché alcuni miglioramenti si sono visti anche dal punto di vista tecnico, e tatticamente. Dove si sono visti i miglioramenti dal punto di vista tecnico, secondo me? Faccio un nome, a me è piaciuto ieri, Rabiot, ragazzi, giocava fuori posizione, giocava fuori posizione, ha pagato un po' d'azio, è vero, l'ha detto Sarri, ha pagato un po' d'azio all'inizio partita, prima mezz'ora, ma poi si è mosso bene, ha tenuto bene palla quando c'era da tenerla, si inseriva bene quando c'era da inserirsi, è in crescita, lui ha detto sto bene fisicamente, quindi riesco ad allenarmi bene, e quindi alla lunga io salto fuori. Contraaltare, altro mio acquisto, Ramsey, gioca con poca continuità, ha dei problemi, degli acciacchi, non è il giocatore che la Juventus pensava di poter avere a disposizione in questo momento della stagione, ma perché, e non è colpa sua, si è fatto male diverse volte, però qualcosa si è visto, ripeto, torno al discorso di Rabiot, e in futuro io credo che questo ragazzo abbia solo dei margini di miglioramento, così come li avrà Ramsey giocando con un po' più di continuità. C'è una cosa che non mi convince sostanzialmente, al di là del fatto che De Miral merita di giocare, perché è vero, sprizza energia, questo discorso di De Ligt legato al fatto che ha dovuto affrontare l'impatto con una nuova realtà, una nuova lingua, un nuovo modo di giocare, eccetera, e che quindi adesso abbia bisogno di rifiatare. Allora, io credo che in parte centri l'infortunio che ha subito contro l'Atalanta, lo ripeto ancora una volta, lo ha detto anche Sarri, quindi evidentemente non sono così rincoglionito, e ci aggiungiamo, l'ha detto Sarri, qualche acciacco a livello muscolare, ok. Però, ragazzi, guardate caso, l'ultima partita giocata da De Ligt è Lazio-Juventus. Vi ricordate il gol di Miliković-Savic? Praticamente lì era un uno contro uno, un lancio di Luis Alberto, puoi anche contare i secondi, quindi uno, due, tre, quattro più o meno, quando il pallone arriva a Miliković, che ha il tempo di metterlo giù. Insomma, c'erano i tempi tecnici per un duello che normalmente un difensore deve vincere. Secondo me lui ha pagato molto quell'errore, non era la prima volta che commetteva un errore di questo genere. Non voglio dire che sia la causa primaria della sua esclusione, ma è centrata molto, secondo me, anche in quella prestazione, o comunque in parte quella prestazione, che ha poi determinato il risultato, perché in quell'istante la Lazio si è portata sul 2-1 e poi praticamente la partita è finita lì. Siccome già in passato aveva dato questi segnali di, diciamo così, mancanza di continuità proprio in questi uno contro uno, probabilmente c'è anche questo tipo di ragione, ossia studiare bene, lavorare bene su questo tipo di situazioni che si creano in campo, dirimando chiaramente questo Demiral, che onestamente non mi stupisce, non mi stupisce, o se vogliamo mi stupisce nel momento in cui questo tipo di prestazioni le offre passando dal Sassuolo alla Juventus, ma che tecnicamente Demiral sia forte, si sapeva, si sapeva. Quindi, io direi, possiamo considerare questa partita una sorta di punto di svolta? Mi si dirà, sì, ma la Juventus è passata in vantaggio per un errore della difesa del Cagliari. È vero, ma la Juventus ha anche concesso un gol del genere, per esempio a Sassuolo. Può accadere? La spiegazione che ha dato ieri Sarri è ancora una volta molto semplice, qual è stata? Il Cagliari è stato talmente sfiancato dal giropalla, che prima o poi doveva andare in debito di concentrazione, oltre che di ossigeno, e poi il Cagliari si è afflosciato proprio dopo questo errore. Ma nulla toglie i meriti di una Juventus che ha sempre giocato, o quasi sempre, in maniera ordinata. Ha avuto, se vogliamo, in regalo questo primo gol, ok? Gli altri, se li ha costruiti, non ha avuto tre regali per fare i gol. Gli altri, se li ha costruiti, li ha trovati da sola, e direi che ha legittimato ampiamente questo risultato. Non ho parlato di mercato stasera, ragazzi. Parati ci ha detto che il mercato è chiuso, io ci crederò quando saremo al 31 di gennaio, e allora crederò che il mercato della Juventus sia chiuso. Al prossimo video, ciao!